ehi la ciurma qui capitan mazzatesse bentornati con un nuovo video e bentornato anche a me perché mancavo da un sacco di tempo da youtube e non caricavo video da tantissimo tempo quindi rieccoci rieccomi rieccovi ciao detto questo appena svegliatomi qua in main testita che era un po' che non aprivo causa varie cause insomma sapete che sono uno scriteriato e carico video un po' quando riesco allora avevo scritto mining drill change mode with shift punch cosa che mi aveva detto vanessa è perché nello scorso video se non ricordo male e se ricordo male picchiatemi cioè proprio venitemi a cercare a casa e picchiatemi avevo chiesto vanessa e per come si cambiava il la modalità del del mining drill perché il mining drill mk1 ha una sola modalità quella scavi quel blocco che stai puntando mentre gli altri mk2 mk3 hanno varie modalità sono molto comode nello scavare però nello scorso video non sapevo e non mi ricordavo più come si facesse a cambiare modalità ho chiesto sul sulla chat irc di main test e vanessa e appunto mi ha risposto guarda che dovrebbe essere mining drill change mode with shift punch e ho provato ed effettivamente era così adesso ve lo farò vedere perché è una cosa epica cioè nel senso questo è il motivo per cui si fa le mk2 e mk3 oltre al fatto che sono più potenti è proprio perché scavi più meglio cioè le modalità super da pro cioè nel senso gg comunque allora proviamo a scavare ce l'avevo dietro la torcia avevamo creato una torcia no che naturalmente non ho forse l'ho messa nello zaino sì l'ho messa nello zaino perfetto così possiamo vedere anche dove scaviamo cosa scaviamo allora modalità così scava un blocco shift punch cambia niente ah no guardate cambia il numeretto lo sotto ma forse non lo leggiamo perché ecco io ho oscurato la chat perché mi dice sempre un sacco di cavolate però effettivamente qua è single node la 2 è 3 nodi di profondità quindi suppongo che se faccio così così in avanti vediamo un attimo esatto 1 2 3 riproviamo 3 nodi di profondità perfetto e questa modalità 2 la modalità 3 è 3 modes wide credo sia un 3 per 3 proviamo su no sotto i piedi però qua ah no ok larghezza di 3 poi c'è tall cioè 3 blocchi in alto quindi tipo cliccando questo dovrebbe scendere di 3 ah no lo fa sempre in mezzo ok 1 2 e 3 e poi ha di nuovo modalità 1 quindi 1 no volevo la 2 scusate ho shift cliccato la 3 è quella in larghezza quindi qua e poi la 4 è quella in altezza perfetto e quindi questo è il nostro fantastico mkd mkd m drill mkp va bene abbiamo capito che non so parlare e bentornati in questo video perchè è luminoso lucky kaiser si è buggato qualcosa sto morendo non so che modalità ce l'ho voglio single node cosa perché c'è luce arriva da lassù mi fa strano togliamo la torcia via la torcia e anche la chat perché dice un sacco di cavolate chat il comando se non lo sapete per caso è f2 per nascondere o per mostrare la chat credo spero si sbagherà la perché mi fa inquietante non riesco a salire damm aiuto ehi ma non sono capace se per non so in base a cosa ma fa un rumore spasmodico e tra l'altro se premo i tasti qw e r ancora di più perchè c'è la ventola proprio la sotto quindi si comprime proprio con cattiveria proprio con la cattiveria più cattiva che ha a questo punto visto che con la mk2 ci siamo divertiti abbastanza io direi che possiamo passare a fare qualcosa di più divertente tipo mk3 per cui mi ero già procurato a suo tempo tutti i necessari materiali per cui il mining drill mk2 ce l'abbiamo abbiamo bisogno di 2 stainless steel ingot e ce l'abbiamo abbiamo bisogno di un blue energy crystals e 3 diamond drill head iniziamo con le diamond drill head per cui servono 4 diamanti l'uno e 4 stainless steel ingot se non mi ricordo male il stainless steel fatto con urani e ferro stainless e chromium ferro e chromium e ne da 4 quindi io ne ho bisogno di 4x3 12 quindi avrò bisogno di 3x3 9 di ferro e 3 di chromium quindi i minerali dove li avevo messi qua zinco chromium 1 2 3 e 9 di ferro abbiamo detto 1 2 3 4 5 6 7 ah no ce ne ho già guardate quanto ne ho qua steel questo è? no non è chromium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 questa polvere la posso anche mettere via ma latina anche? dov'è che va latina? qua cosa me ne faccio? coppera anche via? non avevo fatto un'altra cesta vero? per tutti quei ficchie fuck no dovrò poi fare una tipo super mega chest cioè espandere quella e li mettiamo dentro la ehm alloy furnace ah però devo cuocere prima quelli nella fornace electric furnace tra l'altro uno dei prossimi obiettivi sarà anche quello di costruire una stanza per le fornaci per poi passare a uno smistamento oggetti insomma per un'automatizzazione automatizzante sta facendo qualcosa si stainless steel 4 perfetto altri 4 perfetto intanto possiamo prendere i diamanti che sono perchè sbaglio sempre chest? ma no non sono neanche dove sono i miei diamanti? ah ce l'ho nell'inventario che infarto ci ho perso tipo mille mila ore io per trovare tutti quei diamanti quindi diciamo che non mi serve molto piaciuto scoprire che non ne avevo più 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 perfetto ora ci serve la parte più complicata che è il blu forse ci conviene però energy perchè tanto il blu si fa con il verde e il verde si fa con il rosso no? esatto esatto e questo si fa con un diamond block quindi iniziamo col diamond block che però dovrebbe essere un 3x3 di diamanti suppongo di si 1 2 3 1 2 3 1 2 3 diamond block eccolo qua poi abbiamo bisogno di 4 re batteri 2 red dye e 2 gold ingot red dye o ce li ho o ho una rosa nell'inventario ho una rosa nell'inventario ho una rosa nell'inventario 2 gold abbiamo detto no? quindi sto oltre l'ho azzeccata 2 gold poi dovremmo forse minare un po' perchè di quella roba inizia a scherseggiare un po' 2 gold e le re batteri che si fanno con tin e copper quindi avrò bisogno di tin e copper che naturalmente sono quelli che ho posato un attimo fa copper e tin dove l'ho messo? ah ecco qua e se non sbaglio correggetemi se sbaglio o no mi corrigerà mine test no però se faccio così non ce la farò e devo fare tin e mmm si però non mi basta sta roba ho bisogno di altro legno che però ho nell'inventario per fortuna eeeh quando mi sclicca così mmm la metà basta? no secondo me devo farli tutti questi sono i momenti in cui mi manca minecraft quando non puoi fare shift click per ottenere tutto perchè? dove è andato il copper? perchè misclicca così? si che misclicca vuol dire clicca male non è la miss delle clicche anche perchè che cosa vuol dire clicca? sto delirando forse non mi fa bene fare dei video mmm ma io non capisco capita anche a voi che misclicchi così a volte cioè che depositi oggetti a caso senza che voi lo vogliate vediamo se me lo ricordo giusto siiii sono un pro sono definitivamente un pro ecco avrò bisogno di altre 4 ore battery 2 green die e 2 gold ingot quindi andiamo a dormire cioè ci ho messo un'intera giornata per fare questa cosa anche di più la registrazione segna 11 e 34 comunque voi come va? tutto bene? tutto super allegro? super felici? ci siete gioiosi e allegri della vostra gioiosa allegria ci sono state le votazioni per la nuova serie da fare e effettivamente è saltato fuori che la nuova serie sarà a caso perchè a caso si ok avevo fatto delle votazioni e voi avete votato però allora uno ci sono stati pochissimi voti ma cosa che è facilmente immaginabile perchè sono un piccolissimo youtuber e quindi chi è che mi segue fedelmente chi è che mi segue così fedelmente da andare a cercare e votare e votare no qua posso lasciarlo così e votare quale serie vuole no? però sono stati sembra di due sole persone perchè una ci sono stati cinque voti tutte tipo alle sei meno dieci di mattina e due erano tipo sei voti su overcraft e uno su zelda però tipo quei cinque voti alle sei meno dieci erano tutti e cinque sullo stesso gioco e mi fa strano che una persona alle sei meno dieci cioè ci siano cinque persone alle sei meno dieci a votare e tutti scelgano la stessa cosa quindi boh direi che è abbastanza salta perchè ho cotto dello zinco regrendiamolo please nooo non lo stainless steel what? ma ok tra l'altro ho il mouse esterno non ho il mouse quello scrauso interno per cui uno dice eh perchè usi quei mouse quei touch pad del kaiser di questi computer del kaiser allora non sai cliccare nooo è pure un mouse non uno proissimo però no non dirmi che non me lo grinda più non me lo grinda più ma vaffan brodo a parte che non è che cambia molto solo che mi occupa spazio inutilmente e quindi questa fu la storia delle votazioni cioè che niente direi che si sono chiuse con un nulla di fatto poi io sono sparito per infinito tempo e quindi eh direi che possiamo fare così ho in mente forse una serie da fare barra due serie da fare ma si vedrà adesso dovrò capire un attimo se possono essere interessanti se piaceranno a me perchè effettivamente io faccio un video se piace a me visto che non ho guadagni o bale varie e quindi eh cosa importante è che deve piacere a me la serie poi deve piacere anche a voi ok però se non mi diverto io che cosa gioco a fare o no? che cosa registro a fare? mi faccio uno sbatti tanto per cosa? ma facciamo le 10 per essere sicuri ecco per vero? si per non cuocere della roba a caso intanto iniziamo a fare no niente perchè mi serve il copper beh iniziamo a disporre un due tre quattro un due tre quattro un due tre quattro uno uno un due tre quattro un due tre quattro un due tre quattro 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 perchè non lo so contare? tra l'altro il legno è proprio giustissimo forse ero stato così furbo all'epoca da da cal... da calcolarmi quello che mi serviva e da avercelo nell'inventario forse si quindi beh gg a me due tre quattro alcune cose le avevo già cercate tipo i... i fiori per i dai li avevo cercati perchè appunto per evitare di perdere tempo durante un video cercando dei cavolo di fiori no? non avrebbe avuto alcun senso sarebbe stato solo noioso come se quello che ho fatto fino ad adesso sia divertentissimo sto craftando so proprio che non vi stia piacendo questo video però vabbè lasciatemi un dislike in tal caso ditemi ma se test fai schifo i feedback sono sempre positivi cioè no nel senso sono sempre accettati diamond drill no non si chiama diamond drill si chiama mining drill diamond drill è in minecraft possibile ok devo mettere lui però temo che debba essere carico o è indifferente proviamo uno, due, tre oh oggi ce l'ha proprio con me eh sta miscliccando tutto il tempo eh infatti no deve essere caricato del tutto suppongo tanto ho la torcia qua la torcia la rimetto nello zainetto tra l'altro c'è anche una fornace qua un secchio e delle ho perso vita prima mangiamoci una fragola due vediamo se me ne basta una no me ne servivano due mi ne servono altre no non mi ricordo mai qual è il numero massimo di cuore due quattro sei otto dieci beh come in minecraft d'altronde dov'è che perchè non so cercare le cose no no ditemi che sto sbagliando qualcosa perchè non ne rifaccio un altro eh diamond drill stainless steel blue energy e mining drill eh stainless steel blue energy crystal cosa sto cambiando qua niente no no please non ditemi che devo fare un altro mining drill perchè sennò mk2 ma scusa quando avevo fatto la mk2 aveva ben funzionato forse perchè non avevo le modalità non so cosa dire se voi avete soluzioni a questa cosa fatemi sapere perchè cioè per quello devo farmi tutto questo sbatti qua altre tre cose di diamanti no electric motor era un casino poi avrei bisogno di farmi altri mille milioni di diamanti posso dirvi una cosa ragazzi vi sembrerà magari una schifezza ma quasi quasi me lo do con la creativa perchè scusate un attimo nel senso io l'ho craftato giusto cosa c'è che non va cioè è mine test che ce l'ha con me di sicuro dove è che tenevo il weed lo tenevo da qualche parte qua è mine test che ce l'ha con me è l'unica possibilità tra l'altro posso anche archiviare questo no lo metto di la eeeh qua facciamo così visto che i 20 minuti sono passati se qualcuno di voi ha voglia me lo scrivi nei commenti se è d'accordo o meno che io me lo dia con la creativa così nel prossimo episodio ve lo faccio vedere perchè effettivamente è lui ricontrollo ma è lui stainless steel blue energy diamond drill stainless steel blue energy diamond drill detto questo io vi saluto e al prossimo video ciao ciao